Le hai due spinte molto decise, vediamo che scriva bene i panni, questa porta rossa tra in inganno, ci deve essere un piccolo buchetto, tutti si sconfondono un po', ma Neve si è già determinata a non lasciarsi portare via il gradino più alto del podio, Neve ha una roccia che viene Brava Neve, guardatemi, bravi, Neve, Diana, bravi, tutti quanti, bravissimi.